Allora, mi chiamo Piero Pellegrini e sono favorevole alla costruzione del Palais Lumière e del decalogo di questi dieci motivi, quello che incontra la mia migliore preferenza è questo e adesso ve lo leggo. Riconversione di Porto Marghera, vogliamo un segnale di cambiamento della prima zona industriale da sommare a quello del Vega, parco scientifico e tecnologico della città. Grazie.